Saluto tutti i partecipanti a questo importante appuntamento promosso dalla Fondazione Romualdo del Bianco e saluto il Presidente e amico carissimo Paolo del Bianco e sua figlia Carlotta, Presidente della stessa Fondazione. A Paolo mi lega un rapporto di amicizia e di condivisione di cui ideali atti a promuovere in ogni modo il dialogo, l'incontro, la coesistenza tra diversi per cultura, etnia e religione. Potrei dire che questa visione condivisa tra le nostre fondazioni è ben espressa dalla metafora dell'uomo planetario di Padre Barducci. Infatti l'uomo planetario non è l'uomo globale, è tantomeno l'uomo globalizzato, né tantomeno l'uomo che si muove intorno al pianeta. L'uomo planetario è piuttosto la metafora dell'uomo inedito, dell'uomo cioè che ancora non è ma che può essere. La metafora è un'altra parola dell'uomo nelle cui potenzialità ontologiche esiste questa possibilità di divenire. L'uomo planetario nella prospettiva dunque di un vero e proprio cittadino del mondo che vive la diversità come un valore da rispettare e valorizzare nella misura in cui, come diceva Barducci, l'altro mi arricchisce della sua diversità. Sono passati ormai più di trent'anni da questa affermazione e del saggio che Barducci titolò così. Eppure restano ancora, anche nella nostra società italiana, numerose e diffuse resistenze, arroccamenti, separazioni, divisioni e talvolta per i propri atteggiamenti razzisti, spesso rivolti ai più poveri, ai bisognosi, agli immaginati. Per questo sono onorato di condividere con la Fondazione del Bianco questi valori di solidarietà, di giustizia e di civiltà. Vi ringrazio e auguro a tutti buon lavoro.